ciao a tutti volevo condividere un pensiero con tutti coloro che seguono questo canale su quanto sia cambiato il mondo del fotovoltaico in pochi mesi adesso un anno fa ho visto i vecchi video mettevamo in offerta un inverter una batteria di accumulo per tutti coloro che dovevano completare degli impianti domestici per il super bonus 110 oggi di prodotto quasi non ne parliamo più ma stiamo collaborando con molti colleghi un po in tutta italia isole comprese per parlare di impianti fotovoltaici da inserire in comunità energetica rinnovabili dove il padrone di casa fa il proprio investimento per poter ottenere gli incentivi e l'autoconsumo per i prossimi 30 anni o dove molto spesso capita anche questo siamo noi che facciamo l'investimento e diamo l'opportunità in cambio dello spazio al padrone di casa di avere l'energia che gli serve a titolo gratuito spero che questa cosa possa interessare anche tu se ti occupi di fotovoltaico o interessarti nel caso in cui tu sia un imprenditore che ha un tetto o delle bollette comunque da tagliare scrivimi bio se vuoi saperne di più spero di essere stato chiaro un saluto a tutti da marco fai al tuo esperto del fotovoltaico ciao ragazzi e buona serata a tutti